a info-artinvestimenti.it. Noi stiamo preparando una serie di manifestazioni, aste, vendite televisive, che ci permetteranno di realizzare al meglio la tua collezione, al meglio e nei tempi più brevi. Te lo dico con gioia, approfittane, ne sarai ben soddisfatto. Cari amici, va ora in onda proposte di investimento a cura di Francesco Boni, che vi consiglierà le opere più preziose, sia per la vostra collezione che per i vostri investimenti in arte. Buona visione! Cari amici, buongiorno! Eccoci qui con una trasmissione molto varia e molto viva. Poi oggi i nostri collaboratori hanno studiato una trasmissione molto particolare, perché ve lo voglio far vedere, partendo dal numero 9 e arrivando fino alla fine della trasmissione, vedrete tutta una serie di opere dedicate al volto, ma volti a volte celeberrimi. Guardate questo volto della Gioconda che viene agghindata, che viene truccata, un'opera affascinante. Questo è un'artista che io amo in modo particolare ed è un'artista che ha giordito ormai diversi anni fa con una capacità di figurazione pittorica pazzesca, però con un senso dell'ironia molto raffinato, un senso dell'ironia di un'eleganza, di una profondità intellettuale straordinaria. Ma guardate che cos'è questa opera di Vania Elettra Tam. Non a caso l'anno scorso una sua mostra al Palazzo Ducale di Genova ha fatto parlare gli esperti di tutta Italia. È un'artista importante, un'artista concettuale e soprattutto è un'artista che sa dipingere, cosa che oggi purtroppo per tutta una serie di ragioni, delle volte dimentichiamo. Invece Vania Elettra Tam è un'artista che nella contemporaneità mantiene viva una tradizione culturale, storica, assoluta. Sono i quadri da comprare, sono i quadri di grande qualità, sono le opere di grande livello storico, culturale, che oggi avete la fortuna di poter comprare a prezzi contenuti. Ma nella Galleria dei Volti che vi voglio presentare oggi c'è un'opera molto rara, estremamente importante, un omaggio che Primo Conti fece a un suo amico il 13 luglio del 1978. Andiamo a vederlo, è un volto essenziale. Primo Conti è stato quel grande artista toscano, fiorentino nel vero senso del termine, che giovanissimo si lascia influenzare dalle conoscenze giovanili, quindi in modo particolare Marinetti, quindi l'adesione al futurismo, ma poi il ritorno all'ordine. Lui è stato molto amico, lui è stato oltre che un grosso pittore, è stato anche uno scrittore ed è stato anche un musicista di talento. Era un ottimo violinista, suonava il pianoforte in maniera divina ed era molto vicino a letterati importanti come Palazzeschi, come Papini. Quindi nella storia del Novecento Primo Conti è un artista di grande importanza, questa è una sua tecnica mista di grande qualità che ho la fortuna di potervi offrire a un prezzo ridicolo. Poi c'è un grande dei volti, un grande del Novecento che è stato Ernesto Treccani. Il problema di Ernesto Treccani è quello che esistono un'infinità di opere a lui attribuite, ma chiamiamole di atelier, no? Questa, se non sbaglio Gabriele, è proprio il manifesto di una mostra, se non sbaglio, vero? È proprio il manifesto di una mostra importante che lui tenne qui vicino Milano. L'opera è deliziosa, straordinaria, di grande raffinatezza e c'è proprio la manualità e c'è proprio quella capacità tecnica e descrittiva che è stata propria di Ernesto Treccani. E poi un'opera a cui io sono molto legato, un carboncino ma di una bellezza incredibile di Alberto Sughi. Alberto Sughi l'ho conosciuto, un artista amato appassionatamente, un artista veramente importante, veramente internazionale. E qui ci dà una dimostrazione della sua capacità descrittiva proprio usando il carboncino con una naturalezza ed un'immediatezza che solo i grandi riescono ad ottenere. È uno dei tipici volti tipico di grande raffinatezza e qualità di Alberto Sughi. E poi, amici miei, qui andiamo nel 1931, qui andiamo nelle opere da museo, ieri ero a Bologna e vedevo la fiera, campigli così ti chiedono cifre da fantascienza ormai. Ormai il mercato dei classici, delle opere storiche, guardate quello che sta succedendo su De Chirico, guardate quello che sta succedendo su Morandi, ormai il mercato sta acquisendo dimensioni economiche incredibili, delle volte veramente inaccostabili. E quando parliamo di campigli del 1931, amici miei, parliamo di una di quelle opere che entrano di prepotenza non solo nella storia della pittura italiana, ma nella storia della pittura internazionale. Quindi parlare di campigli di questa qualità, di questo livello, significa entrare nel gota della cultura italiana del XX secolo e in particolare del primo novecento. Questo è il campigli che torna da Parigi, questo è il campigli internazionale, questo è il campigli storico, questa è l'opera sublime di questo artista. 1931. Poi possiamo approfondire la conoscenza di questo artista, il suo rapporto con la famiglia, il suo rapporto con la madre in modo particolare, le origini della pittura di Campigli, il suo pubblico, andare alla ricerca di un mondo primitivo, addirittura di andare alla ricerca di un'immagine legata alla storia dell'immagine, legata alla classicità greca e romana. L'opera è pazzesca, è incredibile, veramente di grande qualità. E poi le opere alle quali tengo in maniera particolare e sulle quali vi invito ad investire. Due opere storiche, una più bella dell'altra, una più importante dell'altra, di quel mostro sacro che è Franca Pisani. Amici, voi comprate una magia comprando Franca Pisani. Voi comprate uno dei più grandi artisti viventi oggi sul nostro pianeta. Franca Pisani ha scritto pagine incancellabili nell'evoluzione della storia della pittura nel mondo, recuperando il segno primitivo, recuperando il segno primigenio, ma evolvendo questa ricerca verso la constatazione della condizione attuale della donna nel mondo. Le opere di Franca Pisani hanno invaso i musei di tutto il mondo, dal Boburg all'Hamburger Bano fa Berlino, al Macro di Roma, al Museo degli Uffizi di Firenze, passando per le gallerie nazionali d'arte moderna di Cannes, di Nizza, di Monte Carlo, passando per le mostre nei musei italiani e stranieri più prestigiose, raccogliendo l'invito a ben tre biennali veneziane, ben tre biennali veneziane, comprando Franca Pisani, comprate il mostro sacro. Comprate letteralmente il mostro sacro. Poi ci saranno le grandi mostre del 2020. Adesso non c'è nemmeno il conto delle mostre che si susseguono l'una con l'altra. C'è stata la mostra per la riapertura dell'abbazia di Monte Cassino. Chi hanno voluto? Franca Pisani. Adesso c'è il recupero del carcere borbonico, il recupero museale del carcere borbonico di Avellino. Chi hanno voluto? Franca Pisani. Franca Pisani in questo momento ha l'attenzione di tutti i centri culturali italiani e del mondo. Io ve lo dicevo anni fa quando vi imploravo di comprare Boetti, quando vi imploravo di comprare Bonalumi, quando vi imploravo di comprare Mambor. Oggi non prendere ancora a Cipre contenutissime delle opere di Franca Pisani, che poi sono rarissime. Provate a chiedere in una galleria se ti danno un quadro di Franca Pisani. Non te lo possono dare perché le opere di Franca Pisani che escono dallo studio dell'artista o vanno nei musei o vanno nelle più grandi gallerie del mondo. Quindi sul mercato è difficilissimo trovare un'opera di quest'artista. E devo dire che io sono orgoglioso del fatto che Arte Investimenti possa offrirvi oggi delle opere di grande livello, delle opere di grande qualità di Franca Pisani. Qui ho due opere di periodi differenti, pazzesche. Interrogatemi, è un'artista della quale non mi stancherò mai di parlare. Poi, visto che parliamo di volti, ho un omaggio ad un'artista più giovane, dirompente, fantastico, neopop, che oggi, amici miei, a noi piace mettere a vostra disposizione quelle che sono le novità intellettuali. Nel mondo della cultura contemporanea, Mauro Drudi, che riporta in attualità il mito dell'annunciata, il mito dell'annunciazione, la celebrazione della donna nella sua percezione della maternità, la donna che diventa la madre dell'universo, la donna che diventa la madre di Dio, siamo di fronte a un recupero culturale raccontato in chiave neopopular, ma che determina la considerazione del valore della donna nella società contemporanea. Queste sono opere da fantascienza. oggi si apre una mostra di Mauro Drudi a Milano, alla fabbrica del vapore, lì dove avete visto quella meravigliosa mostra di Magritte. Oggi alla fabbrica del vapore c'è Mauro Drudi. Il mondo parla di Mauro Drudi. Le riviste d'arte specializzate dedicano le copertine a Mauro Drudi. Siamo di fronte ad un artista che propone la problematica del rapporto tra la donna, la maternità, l'umanità, il valore della donna nella società contemporanea, recuperando un'immagine universale come quella di Antonello da Messina e addirittura dandogli supporti diversi in funzione del significato da dare all'opera. Voi vedete che Mauro Drudi usa dei legni, delle superfici consunte, delle superfici irregolari quasi per mettere in evidenza quella battaglia che la donna ha dovuto sostenere nella società, nel mondo per avere e ottenere quei riconoscimenti che oggi gli vengono attribuiti e dati. E poi c'è la perfezione, l'esposizione su tela, cioè proprio la percezione della madre di Dio, la percezione della madre dell'umanità, quel senso di correttezza, perfezione, acutezza intellettuale che deve essere riconosciuto nel valore della donna nel mondo. Opere sensazionali, opere sensazionali che poi questo artista è capace di installazioni incredibili, infatti le sue installazioni nelle chiese, nei luoghi sacri dedicati a questa immagine sono diventate celeberrime e sono diventate delle icone della cultura mondiale. Quindi vedete che vi offriamo una varietà di temi, una varietà di opere e che vanno dalle opere più classiche del nostro Novecento fino alle grandi novità intellettuali e vi dico la verità, anche le grandi novità da investimento che oggi si propongono. Oggi voi potete prendere le opere di Mauro Drudi ancora a condizioni di prezzo incredibilmente modeste, incredibilmente piccole e questo è un artista che entra di prepotenza non solo sul mercato italiano ma addirittura sul mercato internazionale. Quindi oggi investire, comprare le opere di questo artista, guarda che cos'è l'ultima opera, credo che sia la numero 24 se non vado errato, ma è una delle opere di una suggestione, di una qualità, di una bellezza assolutamente superiore ed è un'opera di grandi dimensioni, addirittura una tela di un metro e venti per un metro. Ma se vi dico qual è il prezzo al quale riuscite a comprare oggi una tela di questa dimensione, di un metro e venti per un metro, la pagate una cipra ridicola. Voi con poco più di 70 euro al mese vi mettete in casa un'opera di questo livello, emozionante, letteralmente emozionante. Dai amici, oggi voglio sentir squillare i telefoni fin dal primo momento, voglio coinvolgervi fin dall'inizio della trasmissione. Ci sono delle trasmissioni che sono rimaste storiche, mi ricorderò sempre una delle prime trasmissioni nelle quali vi presentai gli acromi di Manzoni, mi ricorderò sempre le trasmissioni del 2000 nelle quali insistevo perché voi compraste a due lire, allora c'erano ancora le lire, le opere più belle di Boetti. Oggi avete l'opportunità intelligente di acquisire le opere di Mauro Drudi a due soldi. Approfittatene queste caratteristiche del neopop che si coniugano perfettamente con le ricerche concettuali di oggi, perché badate che il recupero di un tema del genere, che viene da Antonello da Messina addirittura, è ben più profondo delle due banane della banana di Cattelan, intesa in maniera concettuale. Ricordatevi che siete di fronte ad un artista e a un tema affrontato da un artista, che naturalmente queste opere sono nate in un determinato momento e finiranno, saranno un ciclo di Mauro Drudi, ma questo ciclo resta nella storia della pittura dell'umanità. Ma questo ciclo, queste immagini fanno la fine delle immagini dei grandi artisti popular americani, di Cani, vedi Andy Warhol, con una profondità intellettuale ed una eternità di messaggio ben più consistente. Quando un'opera del genere, ve la voglio far vedere, sapete che faccio? A futura memoria faccio una cosa che non faccio mai, oggi non solo vi chiedo di prendere ed acquisire le opere di Mauro Drudi, ma vi farò dei prezzi allucinanti e, contrariamente alle mie abitudini, questi prezzi allucinanti li dirò pubblicamente. Un 120%, una tela di questo livello, 3.300 euro, e te la puoi pagare come vuoi, partendo con la rateazione più lunga, 73 euro al mese. Ma comprala oggi, che la paghi niente, opera straordinaria, questa è la 24. Poi, la numero 23 mi fa impazzire, perché sono quelle meravigliose sculture sul legno dipinte, questi sono proprio oggetti, questi sono proprio sculture, sculture dipinte meravigliose, 41 per 20, pezzo unico, 950 euro. 950 euro, prenditelo di corsa, fa la fine delle letterine di Boetti. E un altro legno affascinante, questo è 40 per 34, guardate il numero 22, un altro legno affascinante, 40 per 34, a 1.100 euro. Amici, poi mi direte, avrei dovuto comprarli tutti, poi mi direte, su queste opere dovevo intervenire al volo. Qui addirittura con il pagamento rateale lungo, 25 euro al mese, 25 euro al mese, la scultura 21 euro al mese. Fate voi, poi al numero 21, splendida, una tela 70 per 50, una tela preziosa 70 per 50 a 1.800 euro. Sono la numero 21 e la numero 20, una più bella dell'altra, una più importante dell'altra, una più significativa dell'altra. Amici, questi prezzi, queste opportunità ve le posso offrire in questo momento. E ve li sto dicendo i prezzi a futura memoria perché quando sarete voi a chiedere le opere di Mauro Drudi vi sentirete chiedere cifre rispetto alle quali quelle che vi sto proponendo sono ridicole, sono ridicole. Guardate la bellezza di queste due opere, 50 per 70, che prendete a nulla. E poi c'è il superquadro, c'è l'opera da museo, c'è l'opera eclatante, c'è l'opera che entra nelle collezioni pubbliche, due metri per 150, questa è la numero 19. Inutile dirvi che qui il prezzo non ve lo dico. Inutile dirvi che qui siete voi che dovete chiedere il prezzo al centralino. Opera colossale, opera straordinaria, opera fondamentale, sono i grandi quadri che fanno la storia di un grande artista. Questo è il numero 19. E poi ho tre legni vocazionali. Sai quelli che ti prendono di dentro? Sai quei legni vissuti dove affiora tutta la difficoltà che la donna ha avuto per raggiungere quelle considerazioni a cui oggi è giunta. Vi chiedo scusa, guardate il 18 e il 17, due legni fantastici, 41 per 50 circa. Guardate che cosa sono il 18 e il 17, il 18 è 40 per 37,5 a 1.002, il 17 è 41 per 50 a 1.004. E poi chiudo con un'altra opera assolutamente da grande museo. Questa è fantastica. Guardate, è di un'intensità, è di un'importanza storica. Questa misura è un legno, sono due tavole, ma 100 per 94, dovrei chiedere 25.000 euro. 3.000 euro, un cadeau clamoroso, un cadeau incredibile, un cadeau di quelli che non si ripeteranno mai nella storia. No, è un amico che dice, non ho idea di quale prendere, quindi quando guardate da me, prego tra le 5 o 6. Va bene, giustamente, ma vi posso dire che li dovete bloccare subito, li dovete bloccare immediatamente. Io sono orgoglioso di presentarvi questa collezione oggi. Sono letteralmente orgoglioso di proporvi questa incredibile collezione oggi. bloccatele, 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 i prezzi sono inesistenti, le opere sono di una suggestione clamorosa e di un'importanza storica assoluta. perdere delle opere di questo livello, di questo significato nella società contemporanea, queste diventano icone, diventano fondamentali nella storia del riconoscimento dell'importanza dell'intervento. Ma tutti, bloccatela però, perché quella grande te la compra un museo e prendete la numero 16, prendete le opere più piccole ma rappresentative, non lasciatevele sfuggire per nessun motivo, prendete la scultura a 950 euro, questa è una gemma, questa è un'opera che resta nella storia del mercato e nella storia dell'arte universale. Comunque, io mi sto battendo per voi, vi ho voluto dare i prezzi per farvi capire che oggi potete realizzare ciò che avete sempre sognato comprando un quadro. Oggi potete prendere a un piccolo prezzo quella che diventa un'icona culturale, storica a livello mondiale. Approfittane, 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 questo è uno di quegli artisti che finisce in mano al gota degli operatori commerciali del mondo, al gota degli operatori culturali nel mondo e questo ciclo di opere… Sono confermate la 17 e la 22. Allora, la numero 17 e la numero 22. La 22, eccola qui, la tolgo deliziosa, una tavola di una raffinatezza e di una qualità straordinaria e poi splendida anche la numero 17. Di grande raffinatezza, di grande qualità, anche la numero 17. Eccole qui, le riesco a togliere tutte e due, ma prendetele tutte, ci sono le grandi tele, c'è la numero 16 che è un'opera da sogno, c'è la numero 16 che è una delle… Questa finisce in un museo, questa finisce in un museo, la numero 24 che state trascurando un metro e venti per un metro, una tela da sogno, questa finisce in una raccolta pubblica. Siate veloci, siate veloci, oggi vi si propone una grande opportunità storica, culturale ed economica. Oggi vi si propone una di quelle opportunità storica, culturale ed economica che poi ricordate per tutta la vita. Una raccolta di opere di Mauro Drudi, di questo ciclo, con questa immagine, che diventa l'immagine iconografica più forte in assoluto di questo artista nel mondo, ma proprio come significato storico e di attualità. Amici, è una nuova annunciata, è l'annunciazione di un'era culturale diversa rispetto a tutto quello che abbiamo vissuto nel passato. Siamo di fronte allo stravolgimento dell'immagine popolar che diventa sacralità. Mi raccomando, qui ci sono due gioielli, sono due tele, 70x50, una più bella dell'altra, che avete la fortuna di poter comprare a un prezzo allucinante, letteralmente allucinante, con 40 euro al mese. Non fare la sciocchezza di non metterti in casa un'opera di questo livello. Non fare la sciocchezza di aspettare. Perché poi, con il bombardamento pubblicitario internazionale, che inevitabilmente verrà fuori sull'opera di Mauro Drudi... Sì, già c'è la copertina di Artein, già credo che sia in edicola in questi giorni, ma prendila, ma prendila, ma prendila. Tu ti lasci sfuggire quelle opere che poi, eccola qua, questa è la copertina di Artein che è in edicola in questi giorni. Ti ricordi? Noi ci sono state coperte, lasciamo stare, amici miei, quando un artista sta esplodendo e avete l'opportunità di poter acquisire le opere storicamente più importanti di questo artista, a due soldi. Non comprarle significa farsi male, culturalmente ed economicamente. E poi, tra l'altro, sono anche tutte opere di una bellezza, di una qualità, di un livello assolutamente formidabile. Che aspettate? Che se ne appropriano di questa immagine, di queste opere, i grandi mercanti e le grandi aste internazionali, e poi rincorrerete le opere di questo ciclo, di quest'artista a cifre paurose, a cifre importantissime. Che fate? La 18 è confermata? La 18? Eccola qua, eccola qui. Anche la 18 non c'è più. Anche la numero 18 entra in collezione. E allora, quella grande, meravigliosa, i 2,70 per 50 a 1.800 euro, ma sapete dove state compiendo il più clamoroso dei delitti? Guarda che cos'è di vissuto questa tavola. Lo dico ai miei amici più cari, a coloro che mi hanno comprato le opere a 50.000, 70.000, 100.000, a coloro che mi comprano i quadri più costosi. Questo, a 3.000 euro, è un clamoroso regalo. Questa è un'opera che fa la storia di questo ciclo di opere di quest'artista. Questo vorrei che fosse acquisito dall'amico più attento, dall'amico più caro. Coloro che investono cifre importantissime in arte. Basta, non vi dico più nulla. Basta, non vi dico più nulla. Voglio riproporre i miei più vivi complimenti. Sì, te li faccio rivedere con gioia. Ma voglio riproporre i miei più vivi complimenti a chi ha saputo confermare delle opere fantastiche. Chi sta aspettando, perché vi conosco, molti di voi stanno aspettando, non solo ci resterà male, ma dovrà dire io non ho capito quando era assolutamente necessario capire. Allora, mi chiedono una rivisitazione delle opere. Partiamo dalla numero 16 che adoro. Partiamo da quest'opera assolutamente... La 16 è confermata. Ci tenevo da morire. Un milione di complimenti. Opera straordinaria. Allora, la numero 16 non c'è più. La 17 e la 18 non ci sono più. C'è la numero 19. Qui è l'unica opera per la quale non vi ho dato il prezzo. E' l'unica opera per la quale vi ho detto il prezzo, chiedetelo al centralino. E' due metri per centocinquanta una tela da brivido. Inutile che vi dica che è una di quelle opere che inevitabilmente finiscono nei grandi musei. Inutile che vi dica che è una di quelle opere che fanno letteralmente la storia di un artista. Fate voi, fate voi, fate voi, fate voi gioiello da non lasciarsi sfuggire. E poi, attenzione, 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 ci tengo da morire. Voglio, voglio, letteralmente voglio. Due fratelli, due amici, io vorrei che addirittura queste due opere venissano acquisite dai miei figli. Le pagate sono delle tele fantastiche. Le pagate 1800 euro. Non venite a dirmi, non ho il denaro, le potete pagare a rate usando la finanziaria come volete. Non avete comprato le opere che hanno avuto poi un successo economico clamoroso. Non buttate via l'opportunità storica e culturale più affascinante del momento. Questi due gioielli, il 20 e il 21, li pagate 1800 euro. Sono due tele 70 per 50 di bellezza inaudita e sono due opere che rincorrerete sul mercato mondiale a prezzi da far paura. Come in passato vi ho fatto comprare per forza, quando voi esitavate, le opere vincenti? Queste sono opere vincenti, queste sono opere vincenti a 1800 euro ciascuna. Non le perdere, non le perdere, non le perdere. Non le perdere, poi se vuoi addirittura un'opera di grandi dimensioni che finisce matematicamente in un museo come la numero 19, però mi dici sai, io ho un'opera di due metri per un metro e mezzo, non la colloco con facilità in casa. Prendi questa, prendi questa. Un metro e venti per un metro è qualcosa di straordinario. Un metro e venti per un metro è qualcosa di superiore. È una delle tele più belle, è una delle tele più affascinanti, è una delle tele vincenti a livello museale ed ha una dimensione più facilmente collocabile in una casa. Non perdete queste gemme. Poi, poi, questa la paghi 950 euro. Confermata la numero 21. La numero 21 è quella verde, quel 50-70 splendido. Opla là. Vedi, se ne andava anche la numero 20. Eccola qua. Guardate quello che vi sto proponendo. Questa è la numero 23. E' una scultura, è un legno dipinto. Te lo sto dando a 950 euro. Non ti dico altro. Non ti dico altro. Allora, ci sono ancora quattro gioielli di Mauro Drudi a vostra disposizione. C'è la grande tela, un metro e venti per un metro al numero 24. C'è il numero 20, splendido, 70 per 50. Andiamo a vedere l'opera museale nei dettagli. Due metri per 150, opera colossale, opera incredibile, opera di livello straordinario. Guardate che cos'è la numero 19. No, vi stanno facendo vedere la 23. Meravigliosa, meravigliosa, meravigliosa. Vale, queste sono le opere che poi fanno la storia di un artista. Le opere che vengono richieste per le grandi mostre. Le opere che diventano punti di riferimento nella storia di un maestro. Mai perdere un'opera di questo livello. Mai lasciarsi sfuggire un'opera di questa qualità. Mai perdere un'opera così importante di un artista che sta diventando un punto di riferimento storico, intellettuale, ma soprattutto di immagine. Queste opere, questa immagine, questa variante su una delle opere più celebri della storia, questa attualizzazione dell'opera di Antonello da Messina nel significato della donna nella società contemporanea, porta Mauro Drudi a diventare uno degli artisti popular più importanti della storia contemporanea. Poi, quando queste opere le vedrai nelle aste internazionali a cifre paurose, allora ti ricorderai di quando ho insistito come un folle perché tu diventassi protagonista, perché tu diventassi il possessore di opere di questo livello. Bene, io mi devo fermare qui perché ho tante opere da farvi vedere e tanti argomenti sui quali approfondire la trasmissione di oggi, ma state compiendo uno di quegli errori, ma state compiendo uno di quegli errori. La grande opera è fantastica, ma lasciare un 70 per 50 di questo livello a 1800 euro, te la faccio pagare, perché quando vedrai le opere di Drudi così, a 8 mila, 9 mila, 10 mila, 12 mila, te lo sottolineerò che a 1800 euro non l'hai voluta comprare. Non parliamo di questa gemma, di questa preziosa scultura a 950 euro, e non parliamo dell'altra opera di grandi dimensioni, dell'altra tela, la numero 24, un metro e venti per un metro, fantastica, fantastica, a 3 mila e 300 euro. A 3 mila e 300 euro. Bene, io mi fermo qui. Se mi chiederete di tornare su queste opere, lo farò con enorme gioia, con enorme partecipazione. Vi invito chi è a Milano oggi alle 18, si inaugura la mostra di Mauro Drudi alla Fabbrica del Vapore qui a Milano, quindi intervenite, venite. Non mi avete chiesto delle due opere preziose di Franca Pisani? Mi aspetto il vostro intervento, il Campigli del 31, il Campigli del 31, un carboncino di sughi di una qualità, di un livello semplicemente straordinario. Un'opera di Treccani che è addirittura il manifesto di una delle sue mostre più importanti. quindi finalmente un'opera di Treccani su cui abbiamo tutte le garanzie di autografia, di autenticità. E sapete quanto sia difficile. Un introvabile disegno, opera da museo, di un artista estremamente raro come Primo Conti, un'opera del 1978 di questo superbo artista fiorentino a 1800 euro ed è un'opera di grandi dimensioni ed è un'opera importante e poi il quadro che mi fa impazzire, il quadro che considero fantastico, ironico, forse un'ironia educata, sottile, affascinante, un'ironia che veramente Dio salvi la regina, Dio salvi la regina, la regina delle arti, la regina della storia. Un metro e venti per un metro una delle opere più rare, una delle opere più belle, una delle opere più affascinanti di Vania e Lettera Tam. Non la perdere, è un pezzo di grande pittura, è letteralmente un pezzo di grande, affascinante pittura. E ora, un evento nell'evento. Se volete maggiori notizie sulla splendida opera di Vania e Lettera Tam, sull'opera di Primo Conti, sul Treccani, sul Sughi, sul Campigli, sulle opere della Pisani, se volete ritornare su quelle opere superbe di Mauro Drudi, non avete che da domandare. Voi sapete che io adoro i vostri interventi, voi sapete che a me piace enormemente dialogare con voi, voi sapete che per me è fondamentale proprio avere un dialogo continuo, rispondere alle vostre domande, quindi interrogatemi su queste opere e su qualsiasi argomento, ma adesso vi devo e vi posso proporre una clamorosa sorpresa. Nel frattempo Franco c'è un amico che preferisce rimanere anonimo, scrive dai social, e ti ringrazia perché ha venduto a parecchi soldini quali che ha comprato da te vent'anni fa. Ah, sono io che ringrazio questo gentile amico. Sono io che ringrazio questo gentile amico. Amici, attenzione. molti di voi si dimenticano che gli ho fatto comprare i Fontana a due soldi, che gli ho fatto comprare i Manzoni quando non li voleva nessuno, che gli ho fatto comprare i Bonalumi quando costavano 5 mila euro, che gli ho fatto comprare le opere più belle di Boetti che oggi vendono a 2 milioni di euro a 15 milioni delle vecchie lire e mi rimproverano perché magari hanno investito 10, 15, 20 mila, 30 mila euro su un artista enorme come Gastone Bigi e Gastone Bigi non vi ha ancora premiato come vi ho promesso che vi avrebbe premiato. ma la grandezza storica di Gastone Bigi è assodata. Le critiche, le citazioni di Argan sul gruppo 1 oppure proprio sulla storicizzazione di tutto il gruppo 1 e sulla storicizzazione di Gastone Bigi vi garantisce nella storia. Cosa è successo su Bigi? Ve l'ho spiegato un milione di volte. Bigi ha interrotto le forniture di opere ha obbligato anche il suo erede ad interrompere le forniture delle sue opere sul mercato quando erano spalancati il mercato americano e il mercato cinese. perché? Perché lui diceva che ormai era enorme che ormai era arrivato voleva che si proponesse la sua casa museo la casa rossa eccetera e voleva che Quintavalle ridigesse il catalogo generale della sua opera con Schira cosa che è regolarmente avvenuta e lui ha lasciato proprio come clausola testamentaria che non dovevano entrare più quadri suoi sul mercato fino al momento della pubblicazione del catalogo generale. Che è successo? Quello che io gli avevo detto prima dico guarda che se tu interrompi le forniture ai mercanti i mercanti non parleranno più di te non faranno più le mostre su di te non investiranno di più su di te e il mercato si bloccherà. Non è vero non è vero tu non capisci niente io ho parlato con i più grandi critici della storia la storia è così non è vero tu sei un venditore televisivo tu sei un mercante lascia parlare a coloro che sanno di arte cosa è successo? Quello che io io lo so come funziona il mercato se tu non dai al mercato lo strumento attraverso il quale pubblicizzarti nel mondo il mercato ti dimentica se Bansky non tirasse fuori un evento ogni tre mesi se Cattelan non facesse parlare i giornali o con il prima con il cesso d'oro poi il cesso d'oro rubato poi la banana Cattelan non continuerebbe a vendere non continuerebbe a tenere i prezzi che tiene se non c'è un'invenzione e una partecipazione sul mercato continua il mercato inevitabilmente ti dimentica ma questo valla a dire ai grandi artisti che si sentono superiori a tutto e Biggi in fatto di narcisismo narcisismo diciamo dovuto meritato non velleitario non era secondo a nessuno ora ora si riapre il mercato di Biggi io oggi ho otto voi lo sapete che io questo termine non lo uso mai a me non piace nella maniera più assoluta usare il termine capolavoro perché ho molto rispetto per i capolavori storici ma io oggi ho otto quadri eccelsi otto opere pazzesche otto opere fondamentali di Gastone Biggi vi dico quelli guardate vado a prendere gli occhiali perché altrimenti non vedo nulla vado a leggere quelli che sono i prezzi già acquisiti dal mercato di Biggi e sono i prezzi che aumenteranno in maniera clamorosa ma quello che oggi ho la fortuna di farvi vedere sono i più incredibili dipinti di Biggi questo pazzesco i pianeti ignoti del 2008 è un metro per un metro e sessanta quadro che io ho venduto a 38 mila euro quadro che io ho venduto a 38 mila euro non bello meraviglioso non bello straordinario un metro per un metro e sessanta di Biggi queste sono le opere che poi fanno la storia del mercato mondiale poi addirittura un continuo segnico strapubblicato il continuo Calvino del 1962 io ho venduto le opere di questo ciclo a 70 mila euro io ho venduto le opere di questo ciclo 1962 continuo segnico di Biggi i più rari i più comuni sono i continui puntiformi il continuo segnico è il più raro iper pubblicato questo ha fatto le mostre internazionali più clamorose bene io le opere di questo ciclo ve le ho vendute a 70 mila euro poi uno dei quadri più celebri della storia di Biggi iper pubblicato storico è la mitica Ascolana del 1989 quadro che io ho venduto a 22 mila euro quadro che io ho venduto a 22 mila euro opera meravigliosa di Gastone Biggi questa è la numero 6 poi pazzesco del ciclo degli iron l'iron nero 18 mila euro l'ho venduto 100 per 80 opera meravigliosa e poi qui andiamo nel 1989 Capo Orm 100 per 100 questo l'ho venduto addirittura a 28 mila euro opera pazzesca di Gastone Biggi quindi un dittico voi sapete che negli anni 90 sono nate le mitiche icone di Gastone Biggi quelle che hanno invaso i musei americani quelle che alla mostra di New York hanno reso incomprabile l'opera di Biggi le cose che vogliono tutti i musei un metro e 40 per 70 questa è un'opera sono le opere che io vendevo negli Stati Uniti a 35 mila dollari a 35 mila dollari opera pazzesca opera incredibile veramente fondamentale poi un gioiellino del ciclo dei fiori un 25 per 20 questi li avete visti in occasione della Biennale di Venezia della mostra di Palermo li vendevo a 9 mila euro gioiellino e poi eseguito con la tecnica delle icone uno dei quadri più clamorosi della storia di Gastone Biggi un metro e 20 per un metro la mitica periferia dei passeri altra opera pazzesca da 35 mila euro da 35 mila euro cosa vi combino oggi su questa clamorosa collezione di Gastone Biggi cosa vi combino oggi su questa clamorosa collezione di 8 opere di Gastone Biggi io consiglio all'amico più caro di telefonare subito e prenderli tutti e 8 e prenderli tutti e 8 perché io vi ho detto i prezzi a cui questi quadri sono stati venduti ma non vi ho detto i prezzi a cui li potete acquisire oggi oggi si propone una delle più clamorose possibilità di investimento che vi abbia mai dato la possibilità di di cui vi abbia mai dato la possibilità di usufruire non solo queste 8 opere oggi vengono presentate a un prezzo infinitamente più conveniente di quelli che vi ho annunciato ma il prezzo infinitamente più conveniente di quello che io vi ho annunciato potrà essere risolto così 10% 10% in moneta 90% in permute 90% in permute ripeto non solo i prezzi che vi dirà il centralino saranno infinitamente diversi da quelli che vi ho detto ma a questi prezzi voi potete ottenere le opere dando il 10% in moneta e il 90% in permute o naturalmente dobbiamo trovare un accordo nel valutare le permute questo è ovvio questo è naturale però avete l'opportunità di mettere nella vostra collezione un pezzo di storia dell'arte alle condizioni di prezzo più clamorose che abbiate mai sentito e su Biggi ve lo dico adesso ci sarà una ripresa formidabile il mercato americano e il mercato cinese che sono rimasti in aspettativa delle opere di Biggi ora avranno le opere e il mercato di Biggi esploderà in maniera esponenziale in maniera esponenziale scegliete il vostro quadro chiedete il prezzo concordate le permute avete una di quelle opportunità che non si ripeteranno mai più i continui di Biggi non ve li vende nessuno i continui di Biggi non ve li vende nessuno siate velocissimi non perdete le opportunità clamorose che oggi vi stiamo proponendo chiedete immediatamente i prezzi di queste opere e approfittate dell'opportunità magica che il committente che il proprietario di queste otto opere oggi mette a vostra disposizione sì ma dovete chiamare subito dovete chiamare subito primo perché i prezzi sono ridicoli secondo perché l'opportunità che vi sto dando per cui potete acquisire queste opere con il 90% di permute con il 90% di permute amici miei sono opportunità che non si verificheranno mai più però le opere le dovete bloccare immediatamente però le opere le dovete bloccare subito però le opere le dovete bloccare all'istante il continuo segnico che io vi ho sempre chiesto 70.000 euro e li ho venduti a 70.000 euro oggi vi chiedono una cifra ridicola e per di più il 90% lo potete pagare in permute questo non accadrà mai più guardate che cos'è il numero 8 un metro e 60 per un metro guardate che quali sono le opere storiche dimmi caro permuta con altri autori mi raccomando mi raccomando mi raccomando dovete essere velocissimi nel bloccare le opere i prezzi sono inesistenti i prezzi sono letteralmente inesistenti e per di più avete la possibilità di pagare il 90% del prezzo inesistente in permute chiedetemi scegliete la vostra opera ditemi su quale opera si propone la vostra attenzione e ne parleremo in maniera specifica e ne parleremo in maniera esaustiva c'è il numero uno che è una cosa da follia c'è il numero uno che è uno dei quadri più belli più importanti più significativi della storia di Bigi questo è un quadro da 40.000 euro oggi questa è un'opera da 40.000 euro oggi prova a chiedere il prezzo prova a chiedere il prezzo di oggi e tieni presente che nonostante quel prezzo è incredibilmente piccolo il 90% lo puoi pagare in permute naturalmente bisogna trovare un accordo sulla valutazione delle permute questo è ovvio ma precipitatevi ma precipitatevi poi c'è il numero due che è un gioiellino è un'opera di dimensioni contenute ma è letteralmente una gemma ma è letteralmente una preziosità la numero tre è la più bella delle icone è la più importante delle icone di Bigi degli anni 90 io le ho vendute a 40.000 45.000 50.000 le icone prova a chiedere il prezzo oggi di quest'opera e tieni presente che il 90% nonostante il prezzo folle te lo paghi in permute da follia e poi iperpubblicato ha fatto tutte le mostre museali questo è il mitico capo Orma questo è è il mitico capo Orma mi raccomando chiamate poi nei messaggi diventa difficile anche telefonando cade la linea quindi c'è un momento di defiance alla centralina state telefonando in tanti questo è il mitico capo Orma questo ha fatto tutte le mostre museali pubblicato un mare di volte opera da 35.000 40.000 euro non solo oggi sentite un prezzo ridicolo ma il 90% lo potete pagare in permute questo è leggendario è uno dei quadri fondamentali degli anni 90 e questo è un iron lo dovete vedere dal vivo perché televisivamente sembra una macchia nera non è così me lo fai vedere da vicino perché è un'opera ecco che bisogna leggere dal vivo è bella quanto il più clamoroso dei quadri di Burri è bella quanto il più incredibile dei grandi quadri di Burri mi raccomando mi raccomando io questo quadro l'ho venduto a 28.000 euro prova a chiedere il prezzo oggi oltretutto hai la possibilità di pagarlo con permute fino al 90% opera sensazionale poi se lo volete pagare tutto in denaro lo potete pagare tutto in denaro lo potete fare altra opera meravigliosa della fine degli anni 80 iperpubblicata altra opera da vedere da vicino altra opera fondamentale importantissima di Gastone Bigi questa è la mitica Ascolana opera che non apprezzo iperpubblicata iperstorica veramente un'opera colossale vale una montagna di denari è inutile dire che l'opera principe che l'opera fondamentale questa te la chiede la Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma questo te lo chiede il MoMA di New York un continuo segnico del 1962 è introvabile è introvabile questa era una serie di otto continui gli altri li ho venduti io da 70.000 a 90.000 euro questa è un'opera fondamentale per la storia dell'arte per la storia del pensiero qui mi piacerebbe farvi leggere le critiche di Argan sui mitici continui di Bigi bene senti il prezzo oggi e quest'opera fondamentale hai la possibilità di comprarla non solo a un prezzo ridicolo ma con il 90% di permute ma con il 90% di permute approfittatene 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 e poi concludo con un'opera gigantesca di grandissima qualità la numero otto un metro per un metro e sessanta i mitici pianeti ignoti dimmi caro non stiamo staccando le opere perché poi dobbiamo valutare a casa le permute ovviamente sì noi stiamo raccogliendo il vostro interesse non le stacchiamo le opere per un motivo molto semplice perché naturalmente dobbiamo trovare la valutazione delle permute no? quindi dobbiamo trovare l'accordo sulla valutazione delle permute tutto che la 7 la stiamo trattando con tre persone in tempo ecco il continuo ha già tre proposte quindi il numero 7 il continuo segnico ha già tre proposte di permute che vanno esaminate ma vi dico intervenite adesso bloccate le opere un 120 160 così oggi vale 40 mila euro non solo avete un prezzo clamorosamente piccolo non solo avete la possibilità di bloccare l'opera a un prezzo clamorosamente piccolo ma poi avete la possibilità di accordarci con il 90% del prezzo liquidato in permute o permute che naturalmente dobbiamo valutare di comune accordo allora numero 8 numero 7 la scolana al numero 6 l'iron pazzesco al numero 5 la numero 5 va vista da vicino la numero 6 va vista da vicino sono opere di una bellezza solamente la visione televisiva ve le fa sembrare scure nere e invece quando le vedete dal vivo adesso la nostra regia ecco vi renderete conto che danno una soddisfazione visiva completamente diversa dai amici subito 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 bloccate le opere avete sentito i prezzi di oggi avete sentito i prezzi di oggi questa è un'opportunità che non vi capiterà mai più nella vita ah guardate se fossero miei questi quadri mai e poi mai vi darei l'opportunità di prenderli a condizioni del genere fai rivedere la numero 5 che è da follia poi c'è il capo orna il numero 4 che è uno dei quadri più celebri di Gastone Bigi guarda che cos'è guarda che cos'è quell'Iron al numero 5 una delle opere più affascinanti no 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 ha perfettamente ragione è chiaro che l'Iron si lega al continuo degli anni 60 con una pittoricità diversa ma concettualmente si lega al continuo degli anni 60 opera meravigliosa opera straordinaria poi al numero 4 c'è quel capo orna che è qualcosa di incredibile una delle opere più importanti della seconda metà del ventesimo secolo nella storia della pittura italiana una delle opere più rappresentative nella storia del ventesimo secolo della pittura italiana iper pubblicato quadro meraviglioso e poi quell'icona al numero 3 e poi quell'icona incredibile letteralmente fantastica che vedete al numero 3 questa la porti a New York quando c'è stata la mostra a New York le icone sono state presentate addirittura al New Museum di Arte Contemporanea quanto vale quanto vale un'icona di questa dimensione oggi non ha prezzo oggi letteralmente non ha prezzo quanto vale non solo avete l'opportunità di prenderla a un prezzo inesistente eh non solo avete l'opportunità di prenderla a un prezzo inesistente ma il 90% lo pagate in permute e poi guardate il numero 2 che cos'è piccolino ma di qualità eccezionale eh piccolino ma di qualità eh clamorosa e poi il numero 1 è uno dei quadri più belli della storia e poi il numero 1 che adesso la regia eh vi farà rileggere è uno dei quadri eh più belli della storia la periferia dei passeri un metro e venti per un metro ma è bello come è bello come Monet eh è bello come Matisse è uno dei quadri più belli e più affascinanti eh della storia pazzesco pazzesco è eseguito con la tecnica delle icone un metro e venti per un metro eh uno dei quadri più celebri eh una delle opere più affascinanti eh di questo mitico artista fate attenzione a Bigi fate attenzione a Bigi eh perché presto eh lo rivedrete eh fra i protagonisti del mercato apprezzi da follia apprezzi da follia eh a prezzi da follia eh Bigi eh lo ritroverete protagonista assoluto eh del mercato eh apprezzi da follia eh e poi eh vi mangerete le mani eh per non aver approfittato eh di quello che sta accadendo eh in guardate questo sta accadendo eh per colpa del committente e del proprietario di queste otto opere eh ma l'operazione che sta compiendo questo signore è assurda è sciocca è incredibilmente assurda eh un continuo segnico del 62 eh venderlo a 70 mila euro significa buttarlo via eh darlo al prezzo che vi ha detto il centralino oggi e per di più con il 90% di permute eh equivale a regalarlo queste opere eh ve le stanno regalando eh queste opere eh avete l'opportunità di acquisirle a cifre che non esistono sul mercato internazionale e questo è un'artista eh che recupera eh i più clamorosi prezzi a livello di mercato internazionale vedrete eh cosa significherà eh il ritorno sul mercato eh delle opere di bici prendila oggi un'opera del genere eh prendila oggi un'opera di questo spessore eh la 6 è come la 7 allora eh sulla numero 6 e la numero 7 eh ci sono già eh numerose proposte eh che naturalmente devono essere vagliate eh nella eh quantificazione eh del valore delle opere eh proposte in permuta eh quindi eh sulla 6 e la 7 eh c'è già molta attenzione ma sulla 3 eh ma sulla 4 questo eh è un quadro che vi voi non avete idea eh guardate eh su bigi eh ci sono solo certezze su bigi e sul ritorno di bigi sul mercato eh ci sono solo certezze oggi avete la fortuna sfacciata eh di poter acquisire opere di questo livello a condizioni di prezzo assurde a condizioni di prezzo assurde e con una possibilità di pagamento ancor più assurda eh delle condizioni di prezzo e soprattutto avete la fortuna di poter prendere le opere più clamorosamente importanti tutte opere da museo l'icona che state vedendo eh è la più importante delle icone mai dipinte da bigi la numero uno guardate che meraviglia eh un metro e venti per un metro è il quadro più bello di bigi eh che abbia visto nella mia vita eh opera colossale eh della quale eh bisognerebbe chiedere un capitale opera letteralmente emozionante eh della quale eh letteralmente eh bisognerebbe chiedere un capitale mai e poi mai eh perdere quest'opera già eh il prezzo a cui viene proposta eh è insignificante eh già eh il prezzo a cui viene proposta è assolutamente eh irreale non solo vi dico approfittatene eh non solo vi dico bloccatela ma avendo la possibilità di pagarla eh con il 90% in permute mamma mia che colpo di fortuna eh letteralmente eh il più incredibile colpo di fortuna eh che possa capitare eh in una trasmissione del genere eh quadro emozionante quadro emozionante uno dei più bei quadri che abbia visto nella mia vita è uno dei quadri più belli più importanti eh che abbia visto nella mia vita ma non solo di Biggi in assoluto eh in assoluto ma poi eh non approfittare del fatto eh di poter acquisire eh un'opera di Biggi di grande qualità piccolina eh eh ma rappresentativa come non mai piccolina ma rappresentativa come non mai perché perderla eh quando eh hai l'opportunità di prenderla a condizioni di prezzo eh inesistenti e addirittura con il 90% di permute dai 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 veloci veloci eh le opere eh le dovete bloccare la uno è confermata direttamente eh la una la numero uno la possiamo addirittura togliere eh la numero uno la possiamo addirittura togliere eh perché è confermata direttamente ma mi raccomando la numero due mi raccomando l'icona eh sul mercato mondiale eh Raffi eh fammela vedere da vicino fammi vedere i graffi eh fammi vedere la sabbia eh fammi vedere gli interventi di blu eh fammi vedere gli interventi eh di bruciatura è bella quanto il più clamoroso dei quadri di Burri e va oltre Burri e va oltre Burri è una delle opere più clamorose di un genio è una delle opere più affascinanti di un genio e come tutte le opere di un genio eh dovrebbe eh essere vista da vicino eh dovrebbe essere eh toccata con mano le meraviglie che devi fare le devi toccare con mano eh mi raccomando eh mi raccomando eh alle condizioni di prezzo assurde eh che vi stiamo proponendo eh non perdete eh un'opera di questo livello alle condizioni letteralmente assurde di prezzo eh che vi stiamo proponendo eh non perdete un'opera di questa qualità e poi il mitico Capo Orna e poi il mitico questo è uno dei quadri più pubblicati questo è uno dei quadri più ambiti ma a livello storico ma a livello museale ma a livello museale opera che eh a 40.000 euro bisognerebbe fare i salti di gioia eh per averla acquistata a 40 45.000 euro non solo oggi sentite un prezzo ridicolo non solo oggi il centralino eh vi suggerisce vi propone eh un prezzo assolutamente ridicolo ma avete la possibilità di pagarlo con il 90% di permute eh con il 90% di permute condivise naturalmente condivise eh mi raccomando eh mi raccomando eh mi raccomando altra opera da sogno eh altra opera eh da fantascienza la 1 franco senza permute eh l'ho l'ho tolta la numero 1 è andata addirittura senza permute perché giustamente eh il prezzo eh il prezzo era talmente modesto che eh l'hanno presa così giustamente ma mi raccomando quello che vi sta capitando oggi è la manna dal cielo quello che vi sta capitando oggi è letteralmente la manna dal cielo è letteralmente qualcosa eh di incredibile eh di ripetibile eh di fantastico eh sappiatene approfittare eh sappiatene approfittare eh sappiatene approfittare non perdete assolutamente eh l'opportunità eh di acquisire eh un'opera di questo livello fantastica poi gli iron più belli del mondo eh qui se non lo vedete dal vivo guarda la 6 la 7 stacchiamoli perché eh stanno continuando a chiedere allora eh mi dice Gabriele che eh sia la 6 che la 7 eh le dobbiamo staccare perché eh continuate a chiederle ma già ci sono eh già ci sono trattative vanno definiti i prezzi delle permute eh ma già ci sono più di una già ce ne sono diverse quindi eh sicuramente eh sicuramente eh sono opere che non vedrete più amici no quello che vi volevo dire invece tanto nell'altra eh Angeli si 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 quello che vi volevo dire è che quest'opera quando la vedrete dal vivo mi direte che follia ho compiuto eh me la fai vedere come se la vedessero dal vivo eh come la vedo io eh adesso eh che gli sto accanto guardate che emozione eh guardate che clamorosa eh incredibile eh fantastica emozione eh guardate cosa significa un'opera di questo livello questo è il più clamoroso dei quadri dei di Biggie eh dell'intero ciclo degli Iron tutto il ciclo degli Iron di Biggie eh non arriva a questo straordinario livello a quest'opera fantastica dovrei chiedere 35 mila euro 38 mila euro questo eh dovrebbe essere il prezzo di quest'opera eh chiamate il centralino eh sentite il prezzo eh e sentite la possibilità di pagamento ma è follia io lo capisco eh che se vedete questa immagine non capite nulla eh perché perché vedi una macchia nera ma ti giuro che quando la vedi dal vivo come la sto vedendo io eh la vedi eh come te l'ha fatta vedere la regia eh pochi istanti fa è tutta un'altra musica eh credo di no c'è un continuo segnico meraviglioso cioè no scusami c'è un continuo puntiforme meraviglioso 60% se lo vuoi vedere sta qui sì ha delle condizioni sì non non entra eh nelle eh condizioni delle permute eh ma guarda che cos'è quest'opera eh ma guarda che cos'è quest'opera ma guarda guarda che cos'è quest'opera ti rendi conto eh ti rendi conto eh qui non ne parlo nemmeno eh state buttando via eh una di quelle opportunità eh che capitano una volta nella vita eh state letteralmente eh buttando via eh una di quelle opportunità eh che non si ripetono mai più eh non si ripetono mai più non si ripetono mai più chi ha perso la scolana non perda capo orno chi ha perduto la scolana non perda capo orno e poi l'icona eh io vorrei che tutti i critici americani che hanno seguito eh la mostra di Beej a New York eh vedessero quest'opera anche questa la devi vedere eh da vicino eh esattamente come l'Iron eh perché gioca tutta eh sulle eh variazioni di eh sulle variazioni di cromatismo eh il nero su nero eh l'intervento del blu eh quei rossi di accensione eh quelle graffiature in basso eh è un quadro fantastico è un'opera letteralmente eh da sogno eh è un'opera letteralmente eh fondamentale eh perderla eh 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 imperdonabile letteralmente imperdonabile eh per qualsiasi collezionista eh perderla è letteralmente imperdonabile eh per qualsiasi collezionista e poi c'è la magia eh c'è la grande mano eh lasciate perdere che l'opera eh non è incorniciata eh ve la eh dovrei guarda che cos'è è uno dei fiori eh è uno eh dei gioielli della serie dei fiori 25 per 20 vale io questi eh a 9.000 euro 10.000 euro eh li ho ne ho venduti decine ne ho vendute decine è l'unico che c'è in commercio non ce n'è un altro in commercio prova a chiedere il prezzo Gabriele te lo sta regalando eh a chiedere il prezzo eh Gabriele te lo sta regalando poi addirittura il prezzo irrisorio eh lo puoi pagare con il 90% di permute eh non ti dico di più e l'ultima grande opera eccola qua guardate che adesso eh eh con il rientro delle opere di Bigi sul mercato eh il mercato di Bigi non solo eh si impennerà verso l'alto eh ma avrà eh un recupero esponenziale a livello internazionale eh ma avrà eh un clamoroso recupero esponenziale a livello internazionale e l'opportunità pazzesca eh che vi sto proponendo oggi non si riproporrà mai più nella storia eh delle nostre trasmissioni un'opera di questa importanza un metro per un metro e sessanta da 45 mila euro eh al prezzo che Gabriele vi dice e per di più eh con il 90% di permute ma quando mai più nella vita avrai un'opportunità del genere la cinque è meravigliosa è il più bella iron della storia vieni 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 è il quadro che adoro è il quadro che amo alla follia eh la numero cinque è il quadro più clamoroso eh della storia adesso la regia ve lo farà rivedere eh adesso la regia ve lo farà rileggere eh ma quando lo vedrete dal vivo come lo sto vedendo io eh adesso vi giuro che è il quadro più incredibile eh della storia di Biggi eh Gabri quel quadro è bello come un continuo quell'opera è clamorosa come un continuo quell'opera è incredibile come un continuo non esitate un attimo eh sono le opere che rimpiangerete per sempre non esitate un secondo eh sono le opere eh che non potrete che rimpiangere eh per tutta la vita poi mi direte magari le avessi comprate tutte eh magari le avessi comprate tutte capo Orn l'icona più bella della storia il fiore che ho in mano eh che è letteralmente una gemma eh che è letteralmente una preziosità voglio vedere chi comprerà questo fiore eh poi eh come eh mi dirà eh mi hai fatto investire i miei denari in maniera sorprendente eh mi dirai eh mi hai fatto investire i miei risparmi eh in maniera clamorosa in maniera sorprendente e questo amici miei non è un quadro una meraviglia dai non è una meraviglia eh quel senso della continuità eh quel senso dell'infinito eh quel senso della ripetizione eh quel punto eh che diventa eh coscienza è quel punto che diventa eh posizionamento della mente è quel punto che diventa eh coscienza di esistere eh opera sensazionale eh opera di livello mi piace moltissimo la forma vuole assumere un punto uno ma proprio qui dice se c'è qualcos'altro io dico adesso no per l'altro eh ma devi dire al nostro amico eh che eh trovare un committente che accetta condizioni di prezzo e condizioni di pagamento di questo livello è impossibile è impossibile ma poi su quadri di questa qualità perché capisco che alcuni quadri sono meno telegenici eh però eh vi assicuro che la qualità rappresentata è pazzesca eh l'Iron al numero cinque è uno dei quadri più belli della storia di Biggi capo orne nemmeno lo dico sai quante volte è pubblicato questo quadro ha fatto tutte le mostre più importanti tutte le mostre più importanti ha fatto la biennale di Venezia eh cioè è il quadro principe il quadro storico e non esiste icona questa questa è la materia di Burri che diventa pittura questo è un quadro di un'importanza storica eh e poi mi dispiace perché lo vedete male eh io sono sicuro eh che se voi foste qui e lo poteste vedere dal vivo come lo vedo io eh il quadro l'avreste già comprato perché uno dei quadri più importanti è della storia della pittura italiana eh della seconda metà del ventesimo secolo fammela vedere da vicino perché è pazzesca eh l'icona è pazzesca eh letteralmente pazzesca letteralmente incredibile inutile dirvi che io mi raccomando a voi è inutile dirvi eh che io mi raccomando a voi prendere questo quadro eh significa investire su un'opera eh che resta incancellabile eh nella storia dell'arte italiana eh della seconda metà del ventesimo secolo dammi retta una volta nella vita compralo il quadro giusto al momento giusto una volta nella vita eh compralo il quadro straordinario eh nel momento in cui hai l'opportunità eh di pagarlo nulla nulla non hai idea di quello che ti metti in casa poi te ne renderai conto eh poi te ne renderai conto eh poi mi dirai eh benedetto il momento eh nel quale ho seguito il tuo consiglio bene amici andiamo a rileggere anche le altre opere insomma è un altro senso questa no capisco che ci sia ancora eh qualche indecisione eh ma eh vi dico la verità eh il tre il quattro il cinque eh perderli è masochismo puro questo è un quadro eh che eh alla Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma eh sarebbe meravigliosamente bene questo è un quadro che fa parte eh della storia della pittura del ventesimo secolo eh e il capo orna altrettanto e il capo orna altrettanto certo eh la stessa cosa non la posso dire eh per il gioiellino che ho in mano ma questo commercialmente diventa una chicca eh ma questo commercialmente eh diventa eh una delle preziosità eh richiestissime eh dal mercato comunque fate voi eh io eh mi sto battendo per voi eh perché voi eh possiate approfittare eh di un'opportunità eh unica allora eh riprendiamo il nostro viaggio eh eh perché eh ci sono eh tante opere che hanno caratterizzato oggi eh la nostra la nostra trasmissione su queste opere di Biggi eh vorrei tornare eh su vostra richiesta eh vorrei tornare eh proprio eh sentendo eh quelle che possono essere le vostre eh preferenze eh domani chiedendomi eh di ritornare su un'opera eh in particolare questa me la tengo in mano perché ci sono affezionato la adoro ma eh volevo farvi vedere eh questa meravigliosa grande opera di Bania Elettra Tam una tela un metro per un metro e venti ironica fantastica eh dipinta in maniera superiore eh letteralmente appassionante e poi eh vi volevo ricordare eh che oggi vi ho messo a disposizione eh una delle tecniche miste di grandi dimensioni più rare e più belle di Primo Conti un'opera del genere del 1978 a 1800 euro a 1800 euro eh un nome fondamentale un nome straordinario eh come quello di Primo Conti eh uno non solo un grande pittore un grande musicista un grande letterato un uomo di cultura straordinario che ha caratterizzato la Firenze eh del ventesimo secolo un'opera di quel livello addirittura a 1800 euro poi se c'è un pittore del quale trovare un quadro autografo eh è eh praticamente impossibile è Ernesto Treccani quest'opera ad olio su tela è addirittura il manifesto eh di una delle sue più preziose ed importanti eh mostre milanesi olio su tela di Ernesto Treccani prezzo insignificante prezzo piccolo 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 eh prezzo addirittura inesistente per un olio su tela di indubbia qualità eh di indubbio livello eh di Ernesto Treccani per non parlare dell'opera di sughi carboncino ma in cui viene fuori eh tutta la manualità eh tutto il fascino eh la proprietà di linguaggio e disegno eh che è stata eh caratteristica eh unica eh di eh Alberto Sughi questo stupendo artista su che cosa? volentieri eh bravo guardate cosa significa questa opera di sughi eh guardate cosa significa questa splendida opera di Alberto Sughi e poi c'è amici ma questo è Campigli Campigli ma questo è Campigli del 31 non è il Campigli stanco gessoso eh degli anni 50 no questo è il Campigli eh reduce dalle avventure parigine dalle avventure dalle esperienze eh parigine questo è il Campigli che ha fatto la storia questo è il Campigli che vedi eh nei musei questa eh è un'opera eh di grande qualità di grande fascino eh di straordinaria bellezza eh di eh Massimo Campigli quanto vale? Tanto vale tanto 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 siamo noi eh io poi ieri sono andato addirittura a visitare eh artefiera a Bologna eh e quindi potete capire che eh i prezzi sai ti ricordi noi abbiamo venduto del sale di calzolari se non sbaglio a due soldi sai quanto mi chiedevano per opere di quel genere ieri? 38 mila euro 38 mila euro eh noi l'abbiamo venduto forse a 12 a 13 quanto? eh una cosa del genere ma noi siamo così eh noi eh vediamo eh le opere eh più importanti più qualificanti più significative a prezzi inesistenti campigli del 31 da favola sì però eh non mi avete ancora preso questo eh gioiello di Bigi questo fiore di Bigi eh guardate lo metto eh accanto eh lo metto accanto eh alla scultura di Mauro Drudi eh questi sono due gioielli che pagate niente che pagate zero eh che letteralmente avete la possibilità eh di mettervi in casa a un prezzo assurdo eh eh e che poi vi danno delle enormi soddisfazioni eh sia sul piano storico sia sul piano culturale eh sia sul piano economico vedete due cose diverse eh nel fiore c'è la storia della pittura eh del ventesimo secolo eh nella scultura dipinta di Drudi eh c'è il neo popular il neo pop eh l'attualità più assoluta è un messaggio eh dedicato all'annunciata come eh significato della presenza della donna eh nella società contemporanea clamorosa ma dato che parliamo di donne eh ma dato che parliamo di donne e parliamo di donne artiste guarda due opere di Franca Pisani che non ammettono replica guarda due opere di Franca Pisani eh sulle quali eh non dovrebbe esserci un attimo di esitazione sono le opere che vengono dalle grandi mostre eh sono le opere eh che hanno fatto sì che Franca Pisani diventasse eh un punto di riferimento assoluto eh non solo della cultura italiana eh ma della cultura nel mondo eh ma della cultura nel mondo io ve lo dico con il cuore in mano perdere questo queste opere di Franca Pisani eh perdere queste opere di Franca Pisani Franca Pisani è un mostro non ha la pubblicizzazione di Catellan ma vale altrettanto non ha la pubblicizzazione di Bansky nel mondo ma vale infinitamente più di Bansky Franca Pisani è quell'artista eh che eh ci riporta dal segno primordiale eh alla capacità di unificazione eh delle culture diverse su tutto il pianeta il linguaggio di Franca Pisani è un è l'unico linguaggio artistico universale eh che esiste oggi sul pianeta che esiste oggi sul pianeta terra oh ve lo dicono tre biennali di Venezia ve lo dicono i curatori eh di musei come eh il Boburg ve lo dicono curatori di musei come l'Hamburger Banoff di Berlino eh ve lo dicono i curatori di tre biennali di Venezia ve lo dicono i curatori dei musei come gli Uffizi come il Macro di Roma quindi eh non è che abbiamo bisogno di una documentazione bibliografica già esiste non è che abbiamo bisogno di una documentazione storica eh già esiste e il linguaggio è eh affascinante e complesso questa diventa uno dei fenomeni culturali più clamorosi della contemporaneità e avete l'opportunità di prendere due opere storiche e avete l'opportunità di bloccare eh due opere eh che già sono storia eh che già sono storie due opere esposte eh a Firenze a suo tempo nella alla mostra della donna non perdetele è confermata la scultura di Drudi eh quale la scultura di Drudi eh complimenti eh complimenti complimenti eh veramente eh un gioiellino buonasera madame buonasera benvenuti veramente un gioiello come sta sua maestà amici eh due grandi opere di Franca Pisani due grandi opere di Franca Pisani Gabriele mi consente di fare un esperimento no non me lo consente eh no non me lo consente io non so nemmeno scusatemi eh vado a prendere gli occhiali perché eh ve lo dicevo prima eh senza occhiali non vedo eh assolutamente nulla eh una una follia eh una follia allora questo è il quadro premiato questo è il quadro che nella mostra a Palazzo Panciatichi di Firenze eh è stato addirittura premiato in ogni uomo si cela una donna eh e poi ma la cosa bella è che non lo sa eh ma la cosa bella è che non lo sa questo è uno dei quadri più celebri nella storia di Franca Pisani e questo è il quadro dedicato eh all'universo invisibile c'è addirittura un primo piano eh che è la descrizione della eh dell'individuo della eh di una figura femminile terrena eh che eh si proietta nell'universo eh proprio come eh certezza eh di una realtà universale sono due quadri questo è un metro e venti per un metro eh l'universo invisibile e questo eh è il quadro più premiato eh a livello storico dedicato alla donna eh da eh di Franca Pisani se tu vai dall'artista un quadro così non te lo vende proprio eh perché essendo eh uno dei suoi quadri storici sono i quadri che lei ripropone eh che vi posso dire quando c'era la mostra agli uffizi eh c'era questo quadro sono i quadri che lei ripropone eh nelle mostre più importanti eh nelle mostre internazionali all'Hamburger Banoff di Berlino c'era questo quadro capite quindi il quadro che accompagna eh le grandi mostre questo non ne parliamo proprio perché eh è uno dei quadri vocazionali di Franca Pisani che poi eh le opere di quest'artista qualcuno mi dice ma come mai non le vedo in giro perché eh come tutti gli artisti di grande livello Franca Pisani adora le sue opere eh non le cede eh non le dà eh in conto vendita eh non le offre ai mercanti se non gliele pagano eh ma non per una questione di denaro eh proprio per una questione che ogni opera eh di Franca è una parte di se stessa eh cioè lei si riconosce quando è costretta a vendere un'opera eh è come se gli portassi via eh una parte della sua anima una parte di se stessa capito eh quindi eh non è eh un'artista che eh propone le opere sul mercato è un'artista che propone se stessa sul mercato la sua mente la sua storia quindi è difficilissimo avere contatti con lei eh perché da una parte è anche eh generosa ma eh è legatissima alle sue opere e queste sono due opere tutte e due storiche tutte e due di livello eh straordinario il prezzo eh se l'avete chiesto a Gabriele è ancora piccolo 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 e ancora piccolo 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 ma io voglio fare una prova d'ascolto mancano pochi minuti alla fine della trasmissione mancano una decina di minuti alla fine della trasmissione io vi do questo tempo eh Gabriele se n'è andato quindi non posso dirvi più nulla che fai prendi il posto poi lo dici te a Gabriele allora eh eh sapete che cosa faccio voi avete chiesto il prezzo eh di queste opere quindi lo conoscete io vi do tempo da adesso fino a un minuto dalla fine della trasmissione per fare le vostre proposte su queste opere fatemi voi eh la vostra proposta economica eh su queste due opere eh di Franca Pisani lo faccio lo faccio perché voglio eh che i nostri clienti più cari abbiano la possibilità di comprare al meglio le opere che restano nella storia e queste sono due opere di un artista che non solo resta nella storia ma diventa eh una delle uno uno degli artisti eh incancellabili eh nella storia dell'arte internazionale Franca Pisani resta nella storia dell'arte dell'umanità eh non resta solo eh nella storia dell'arte italiana ho due opere storiche a vostra disposizione voglio sentire le vostre proposte eh su questi due gioielli avete poco tempo eh formulate le vostre proposte poi non vi dico le accetto non le accetto non lo so eh questo eh lo vedremo eh ma voglio mettervi nella condizione di acquisire due superquadri a condizioni di favore assoluto due opere colossali amici eh siamo in chiusura eh delle opere di Mauro Drudi eh mi sono rimaste eh le due opere più grandi eh quella enorme quella museale eh da due metri per centocinquanta l'altra splendida opera eh di un metro e venti per un metro e poi un'opera che io trovo eh affascinante come non mai eh anche se di dimensioni eh più contenute eh un settanta per cinquanta eh veramente eh di grande qualità eh di grande fascino parlare di Mauro Drudi significa parlare eh di un artista del quale oggi parlano tutti perché sono quei fenomeni no eh vi ricordate eh quando è venuto fuori TV Boy eh con il famoso bacio eh tra eh Salvini e Di Maio eh e poi tante altre eh interventi di quest'artista sulla cronaca eh vi ricordate eh quello che è accaduto con Vansky eh vi ricordate eh quello che è accaduto con la banana di Cattelan ecco sono quegli artisti eh che oggi eh diventano eh i provocatori di un'icona intellettuale quando Drudi eh nella varietà delle sue opere neopop eh ripropone in chiave neopopular uno eh dei capolavori della pittura di sempre no? eh la famosa annunciata eh di Antonello da Messina tutti conoscete quell'opera eh tutti conosciamo eh Antonello da Messina perché quest'opera di Antonello da Messina eh è diventata un'icona regia me la fai vedere mi fai vedere eh l'originale di Antonello ricordi al nostro pubblico eh eccola qua l'annunciata cosa ha di straordinario quest'opera è l'unica annunciazione della storia dove c'è un solo personaggio dove c'è solamente Maria manca l'angelo manca tutta la coreografia eh d'immagini che di solito accompagna un'annunciazione c'è solo un gesto c'è solo quella mano destra di Maria che ti dà la percezione di una presenza o pensate che questo è un quadro dipinto nel 1470 circa quindi eh e quindi uno dei quadri che annunciano quello che sarà il rinascimento quello che sarà eh uno dei momenti eh più alti della storia dell'arte e della storia della pittura qual è il significato di quest'opera? è la percezione della donna di diventare la madre di Dio è il momento in cui lei sa e da qui eh quell'aria eh stupita e preoccupata lei sa di diventare la madre di Dio cosa succede eh eh nell'interpretazione neopopular di eh Mauro Drudi che questo messaggio si trasferisce alla funzione della donna eh nella società contemporanea eh la donna eh che ha acquisito eh una importanza assoluta eh nella eh società contemporanea a fatica eh arrivandoci eh con attraverso eh mille sacrifici e oggi eh ha la possibilità di esplicarsi addirittura come madre dell'umanità eh siamo di fronte ad un'immagine incancellabile come eh sono diventate famose nel mondo le immagini di Andy Warhol come sono diventate famose nel mondo eh le immagini di Baschi così le immagini di questo ciclo eh delle opere di Mauro Drudi diventeranno incancellabili sono già diventate incancellabili eh nella storia della pittura contemporanea e tu oggi hai l'opportunità di prendere ancora delle opere straordinarie di questo artista a condizioni di prezzo piccolissime io è un discorso che non abbandono è un discorso che riprenderemo è un discorso che sentirete fare non da me ma da tutti i più grandi galleristi d'Italia e del mondo queste immagini eh invadono eh lo spazio visivo eh dell'umanità contemporanea quindi perderle è come aver perso eh i grandi degli anni settanta ottanta cosa avete fatto sulle due opere della Pisani eh quali proposte eh avete eh eh enunciato eh al centralino eh come vi siete comportati eh su due opere eh di questo livello eh di questa importanza storica eh di questa eh straordinaria qualità eh sono curioso e poi eh lo andrò a verificare eh proprio con Gabriele quello che è avvenuto eh su queste due opere siamo eh alla fine eh siamo proprio eh agli ultimi istanti di questa trasmissione eh permettetemi come di consueto eh di ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato e mi stanno ancora aiutando nel corso di questa trasmissione dalle nostre impagabili fanciulle Raffaela con un L sola e Laura eh e Laura eh che sono i tecnici impagabili di una bravura straordinaria eh poi tutti coloro che hanno collaborato nell'allestimento i collaboratori di sala e naturalmente eh Gabriele eh che e tutti coloro che ci stanno seguendo eh al centralino ma il grazie più caloroso come sempre va a voi eh voi che ci scegliete voi che ci seguite eh voi che ci date il conforto eh della vostra partecipazione Raffaela eh qual è il programma di oggi? Allora la prossima trasmissione eh eh alle 17 dedicata a c'è Pietro c'è Pietro c'è Pietro Quattriglia alle 17 eh con l'arte moderna o antica arte antica ah allora oggi avete Pietro Quattriglia alle 17 con l'arte antica e poi questa sera alle 22 sarò ancora io che vi romperò le scatole eh con un'altra importante trasmissione di arte dedicata all'arte moderna e contemporanea bene amici grazie di cuore per la vostra attenzione eh con grande partecipazione alla prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti